Ciao a tutti, sono Alessandro Campaiola e con questo video desidero far capire l'importanza che ha il mio lavoro per le persone che purtroppo sono magari disabili, non vedenti. Quanta importanza può avere poter far ascoltare a una persona che soffre di questo tipo di problema un prodotto recitato e non magari tradotto in fuoricampo o comunque appunto sottitolato che non sarebbe possibile da essere visto. Volevo precisare questa importanza e volevo soprattutto precisare una cosa ancora più importante che la prima persona che si è mosso per questo tema socioculturale è proprio Davide Pigliacelli che tra le altre cose io saluto, che è un caro amico. Davide è una persona straordinaria, una persona non vedente per chi non lo sapesse che si fa un mazzo che non posso farvi le braccia perché mi sto riprendendo. Ci tengo a precisare per chi non lo sapesse che il primo in assoluto che ha trattato questo tema e che sta facendo una campagna per questo tema è Davide. Quindi io gli faccio un applauso, non posso fartelo fisicamente, te lo faccio con il cuore perché sei una persona fantastica e vai avanti così perché sei veramente un grande. Vi mando un saluto alla Barry Allen. Io sono Flash. Che c'entrava direte voi? Non lo so, ce l'ho voluto mettere. Ormai lo metto ovunque. Ciao ragazzi!